Allora qua c'è un albero chiamato l'albero del Cicco Sapote. Il nome originale della resina è che vuol dire sangue dell'albero, che attualmente questa resina si chiama cicle. In Europa voi la chiamate chewing gum. Il cicle o la chewing gum parte qua dell'America, principalmente dall'aria maya. I maya utilizzavano la resina per masticare la resina, pulirsi i denti. Perciò nel medioevo c'erano problemi con i denti e i maya avevano i denti perfetti. Quindi il ciclo la chewing gum parte dell'aria maya. Poi vi faccio vedere l'albero. Allora qua c'è un'albero.